Uno spaccato, in forma di invettiva rap, quello proposto dalla compagnia veronese Babilonia Teatri, con il loro durissimo Made in Italy. Al Teatro Concordia di San Benedetto, il duo, composto da Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, ha portato in scena tutti i luoghi comuni dell'italico nord-est, malato di sfrenato consumismo, razzista, bestemmiatore e ossessionato da valori distorti e intolleranza leghista, tasse, soldi e immigrati. Lo spettacolo, in cartellone per il quattordicesimo incontro nazionale dei teatri invisibili, si è costruito a modi blob teatrale, un impasto linguistico dai toni enfatici, per far emergere i non detti, i gesti e i comportamenti ormai inglobati nel quotidiano, che sembrano naturali, ma che in realtà nascondono semi di follia. 3 come un tris, gli diamo il 3, 1 più 1 e 1 che fa 3, 33% di sconto, 3 parole, sole, cuore, amore. L'idea dello spettacolo nasce da un fatto che ci è accaduto realmente, cioè siamo andati in questa pizzeria in cui raccontiamo all'inizio dello spettacolo e il telegiornale riportava la notizia all'abbattimento del muro che divideva la parte di Padova abitata da extracomunitari e nel momento in cui questa notizia è stata data tutta la pizzeria è insorta e ha iniziato ad utilizzare una serie di appellativi e di insulti nei confronti di tutti gli extracomunitari, diciamo. Noi siamo rimasti molto colpiti da questa cosa. Vincitore del prestigioso premio Scenario 2007, Made in Italy ritrae in modo spietato gli eventi mediatici del bel paese come quello della vittoria ai mondiali contro la Francia che ci portò il titolo di campioni del mondo o i maestosi funerali di Luciano Pavarotti con tanto di frecce tricolori in volo. Ma soprattutto lo spettacolo cerca di svelare le ipocrisie dell'epoca contemporanea in modo impietoso, senza dimenticare il fatto che anche la macchina teatrale con la sua scenografia, con i suoi tecnici di scena alle luci e alla musica fanno parte di una finzione che va dichiarata fin dall'inizio.